Abbiamo fatto l'annuncio ufficiale della sirena, quindi i nostri ragazzi corrono velocemente verso i loro automezzi pittoreschi e noi dobbiamo ripartire subito perché tra pochissimo, tra 90 minuti o meno, arriverà la corsa al vecino di Italia quindi grazie per il nostro coro Speriamo che vi siate in ogni modo amici, previ, maltesi, divertiti Mi chiedo un po' retesamente, come stai in fronte, di liberare la strada, grazie, così che i nostri ragazzi possano passare con la insicurezza ma sono lì con la sicurezza, quindi grazie Vedete che a salvo, ci faccio a piedi, liberiamo la strada, grazie Sì, in Italia, scopri! presto presto grazie grazie è stato bellissimo ripetiamo la strada ripetiamo sul momento e immediatamente la strada grazie complimenti ragazzo complimenti sei veramente un personaggio una cosa incredibile non ho capito niente Lucianino Lucianino è grandissimo è grandissimo grazie Sabri eh Sabri 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 tengo la natura ma sono leggero e non ti ha perso un unico pensiero e si riparte in via per un'altra sorta meravigliosa per festeggiare il Giro d'Italia grazie Sabri grazie perché ci siamo divertiti fortissimo grazie Sabri buongiorno